Al Mocagatta senza più granché da chiedere alla loro regular season si affrontano Alessandria e Vicenza con i piemontesi già certi della retrocessione dell'ultimo posto, il Vicenza già sicuro del terzo posto che garantisce l'accesso al primo turno della fase nazionale dei playoff, il Vicenza per prolungare la striscia record di 15 risultati utili consecutivi l'Alessandria per provare a chiudere bene, una stagione complicata che porta all'addio dopo 16 anni al calcio professionistico, primo tempo su ritmi abbastanza bassi, la prima occasione per il Vicenza al dodicesimo con Ferrari che è in scivolata, viene murato in calcio d'angolo da Gega, l'Alessandria si fa vedere però attorno al ventesimo con questa conclusione da fuori di Rossi, sinistro Rosoterra che finisce largo alla sinistra della porta di Confente, una gara come detto giocata su ritmi non molto alti in cui però ci sono le occasioni come questa per delle monache che dopo un 1-2 con Ferrari calcia alto, ha una chance anche su calcio di punizione il Vicenza col solito Ronaldo che non riesce a trovare la porta difesa da Farroni l'episodio che sblocca la partita arriva con questo contatto dentro l'area di rigore Busato va giù, fallo di Ronaldo al 36esimo dopo un rimpallo dentro l'area dal dischetto va proprio Tommaso Busato che spiazza Confente, segna da ex senza esultare il suo primo gol con la maglia dell'Alessandria preciso dagli 11 metri, rallenta e poi col sinistro spiazza il portiere del Vicenza che prova a reagire nel finale di primo tempo con questa chance, ancora Gega decisivo a salvare su Greco che stava arrivando su questo pallone in scivolata, l'ultima chance del primo tempo c'è la Delemona che bella giocata anche con un pizzico di fortuna, passa in mezzo a 2, poi calcia largo dopo aver cercato il primo palo, secondo tempo che si apre con il Vicenza in avanti, altra chance per Delemona che è rimontato però da Nicchetti che riesce a negare la conclusione al classe 2005 della squadra di Stefano Vecchi, Alessandria che riesce comunque anche nel secondo tempo nella prima parte a spaventare Confente con questa conclusione di Sepe, altro colpo di testa questa volta di Ferrari con la palla che finisce larga con il loco che prova a entrare in partita e poi ci riesce al 72esimo con questa giocata che porta al secondo giallo di Gega che era stato ammonito in apertura di ripresa, secondo giallo per la trattenuta su Ferrari, cartellino rosso per il difensore dell'Alessandria che lascia in 10 suoi dopo essersi fatto scappare l'attaccante del Vicenza, Alessandria che ci prova su punizione con la parata di Confente ma che poi dopo il rosso a Gega è costretta ad abbassarsi, a schiacciarsi, il Vicenza mette dentro tanti giocatori offensivi e trova il pareggio all'89esimo con Giovanni Busato che dopo la parata di Farroni su Sandon mette dentro il suo primo gol all'esordio fra i professionisti e viene abbracciato da tutti i compagni, ragazzo classe 2004 della primavera del Vicenza non poteva sognare un esordio migliore all'89esimo, il gol dell'1-1 al Vicenza però non basta e al 95esimo va giù Ferrari in area sul cross di Della Morte e calcio di rigore per la squadra di Vecchi all'ultimo istante ripartita tra le proteste, timide dei giocatori dell'Alessandria, questa trattenuta da parte di Ciancio su Ferrari che si presenta dal dischetto, freddissimo, incrocia e regala tre punti alla squadra di Vecchi col gol del 2-1, il tredicesimo del campionato del Loco con Farroni che era andato dalla parte giusta ma non riesce a parare, vince il Vicenza 2-1